In una stagione che per la fiera di Porderone forse ha avuto anche dei momenti di difficoltà ma non legata alla fiera, al contesto e alle discussioni politiche che sono intorno alla fiera adesso arriviamo al momento clou delle manifestazioni con la campionaria siamo in grande attesa di questo evento perché alla fine è meglio passare dall'ambito della discussione politica come a me piace i fatti, quindi ci aspettiamo anche quest'anno un grande risultato, un successo di questa iniziativa sarà anche una forte indicazione per come andare avanti quindi un grande in bocca al lupo a tutta l'organizzazione, a tutte le persone che lavorano con questa passione intorno alla fiera di Pordenone e in particolare proprio per la campionaria